Beh, ragazzi, tanto buongiorno e buona domenica. Sicuramente non mi aspettavo che l'argomento principale di discussione del post Juventus-Brest 2-2 potesse inventare il calciomercato, perché anche nel video post partita che ho pubblicato ieri sera, poi sul finale c'è stato ovviamente un passaggio. Abbiamo parlato di calciomercato, perché ci sono alcune situazioni che vanno chiarite, alcuni giocatori che vanno comprati, bisogna assolutamente cercare di allungare la rosa, non parlo neanche di qualità, io parlo proprio di lunghezza della rosa, perché oggi siamo inadeguati per iniziare tra due settimane un campionato, quindi dobbiamo muoverci a quel punto di vista. Però non avrei mai immaginato che l'argomento mercato potesse diventare veramente una prima pagina di giornale, monopolizzare l'attenzione, perché si sono viste alcune cose interessanti ieri, le abbiamo snoccelate, le abbiamo articolate, però prima di tornare, anche su alcuni giocatori in particolare, bisogna fare un passo indietro. Bisogna partire dalla conferenza stampa di Tiago Motta, quella post partita, perché ai microfoni di Sky Sport, con tutta la naturalezza del mondo, Tiago Motta ha candidamente confessato che sì, Chiesa e tutti gli altri giocatori non convocati, ad eccezione di Fabio Miretti, che in questo momento è infortunato, sono stati esclusi per motivi legati al mercato, e che i giocatori sono considerati forti, bravissimi, meravigliosi, ma che in questo momento, per un discorso di continuità, è bene che loro vadano a trovare un'altra sistemazione, per il bene loro e della squadra, e della Juventus. Non c'è più spazio per loro, la società è stata molto chiara, Chiesa e tutti gli altri sono fuori dal progetto. Ok, da dove si inizia a commentare queste parole? Che ci aspettavamo, perché nel momento in cui questi giocatori vengono privati della convocazione, significa che qualcosa si è mosso in quella direzione. Però sentirlo dire a Tiago Motta fa effetto, anche perché va a ufficializzare il tutto, stiamo parlando di una figura emblematica della Juventus che verrà, stiamo parlando dell'allenatore, è una dichiarazione ufficiale, tra l'altro una dichiarazione ufficiale che va in controtendenza rispetto a quella di Giuntoli, proprio durante la presentazione di Tiago Motta. Lo ricorderete, Giuntoli era stato chiaro, aveva detto, non esistono casi, non esistono giocatori fuori rosa, sono tutti importanti, fortissimi, meravigliosi, bravi ragazzi, non abbiamo intenzione di cedere a questi giocatori. Dieci giorni fa, una roba del genere, quattordici giorni fa, due settimane fa, in due settimane si è ribaltato tutto. Ora, io non so se è perché pensavano di poterli cedere e poi è successo qualcosa che ha impedito loro di andare a fare queste cessioni, e quindi ora c'è necessità di dare un accelerato, un giro di chiave potente, o se è per metterli spalla al muro. Però in questo momento mi viene da dire che la Juventus ha preso una strada rischiosa, cioè diciamoci le cose come stanno, è una strada rischiosa, è una strada che può portarti ai benefici, ma è sicuramente un rischio. È un rischio perché? Perché Tiago Motta dice, siamo stati chiari a questi giocatori, abbiamo dato indicazioni di risolvere il problema, di trovare un'altra squadra. Significa che oggi il procuratore di un calciatore potrebbe portarti anche un'offerta veramente molto bassa, cioè tu stai sacrificando pienamente il valore del mercato del calciatore. Se domani l'entourage di Chiesa porta un'offerta che per loro è soddisfacente dal punto di vista economico, perché vanno a guadagnare 5 milioni e mezzo, 6 milioni, quelli che sono, e alla Juventus propongono un'offerta di 10 milioni per il cartellino, la Juve che cosa fa? Perché effettivamente poi l'entourage di Chiesa ti ha portato l'offerta. Ti sta cercando di risolvere la situazione esattamente come hai chiesto a te. Ma tu sei disposto poi a cedere a Federico Chiesa per 10 milioni dal punto di vista economico? Questa cosa è positiva oppure no per la Juve? Perché in teoria stiamo parlando di un giocatore per il quale la Juve ha fatto un grossissimo investimento qualche anno fa. Il cartello di Federico Chiesa costato 60 milioni di euro la Juventus. Non stiamo parlando di uno scherzo, stiamo parlando di una valutazione molto elevata. E tu sei davvero pronto, disposto a sacrificare così? Perché oggi ti metti in una posizione di svantaggio, secondo me, nei confronti di tutti questi giocatori. Se per McKennie ti puoi chiudere un occhio, per Kostic puoi chiudere un occhio, per Jalou lo vuoi dare in prestito, Nicolussi ha del mercato di diverse squadre, si troverà una sostenazione. Però su Chiesa veramente secondo me ti fai un autogol. Perché stiamo parlando comunque di un giocatore di livello alto. Stiamo parlando di un giocatore importante nel panorama calcistico nazionale comunque, e anche internazionale. Un giocatore che fa gola a tanti club, ma che ora quei club potranno contare su un alleato proprio in Federico Chiesa. Della serie, ok, hai preso la tua decisione, io ora ti porto la soluzione, è una soluzione che non ti soddisfa, mi dispiace, a me sì. Quindi ho un po' paura, sinceramente, di vedere come si risolverà questa situazione, ma ormai è ufficiale. Federico Chiesa è fuori dalla Juventus e fa anche impressione perché si parla di continuità. Di continuità che alla Juventus non potrebbero trovare. È ovviamente una bugia bianca quella di Tiago Motta, a maggior ragione dando un'occhiata a quelli che sono gli esterni in questo momento a disposizione della Juve. Cioè, Weha, Sekulov, Bangula e Ildiz. Oggi sono questi i giocatori che la Juventus ha schierato nell'amichevole sulle corsie esterne. Quindi sicuramente uno, come Federico Chiesa, avrebbe fatto molto comodo, sarebbe tornato utile. Oggi la Juve ha necessità di conquistare almeno due esterni sul mercato. Almeno due. È uno almeno di fascia alta, perché deve essere un vero e proprio titolare. Quindi vedremo la strada scelta raggiunto lì dove porterà. Sicuramente è una scelta coraggiosa, molto coraggiosa. E questa dichiarazione di Tiago Motta diventa una cassa di risonanza, secondo me, di altissimo livello. Io lo so come funzionano queste cose. Oggi ci saranno un sacco di club che staranno facendo delle telefonate alla gente di Chiesa per cercare di capire la situazione. ho solo un po' paura che poi la Juve possa ritrovarsi con un pugno di mosca in mano. Probabilmente questa è stata una volontà della Juventus per cercare di impedire a Chiesa di liberarsi a zero. Della serie sì, è tuo diritto a gennaio firmare con chi ti pare, però sappi che se rimani qui fino a gennaio tu comunque il campo non lo vedi. Quindi credo che questa sia stata la volontà di giocare d'anticipo nei confronti di quella che poteva diventare una strada percorribile da Chiesa. Tutt'ora lo può fare, però la Juventus gli ha detto ok, se lo vuoi fare, però sappi che stai fermo un anno, praticamente. Perdi un altro anno e sicuramente dopo anche l'infortunio al ginocchio non è nell'interesse di Chiesa rallentare ulteriormente la sua carriera a punto di vista sportivo. Vedremo, vedremo. Sicuramente sono parole che hanno fatto il giro del mondo sportivo, del mondo calcistico e secondo me qualcosa si sta muovendo da questo punto di vista. Vediamo. voglio però parlare di due giocatori in particolare. Il primo è Cabal. E in tanti mi avete scritto che vi è piaciuto tantissimo, che per voi è stato uno del migliore in campo. Se non il migliore in campo, a me non è piaciuto tantissimo invece. Vabbè, dal punto di vista difensivo devo dire la verità, non male. Non male. Anche se lui e Gatti insieme, lo dicevo anche nel post partita, non mi danno chissà quale tranquillità o sicurezza. Però, oggettivamente, quando si tratta di fare una diagonale, di fare un anticipo, roba del genere, anche risposto bene. Secondo me è molto limitato nella fase di impostazione. Cioè ha perso troppi palloni molto banali. E questo per me è un fattore importantissimo, ma ha maggior ragione all'interno di una difesa strutturata come quella di Tiago Motta, dove devi cercare di prenderti il vantaggio già partendo dal basso. Anche Calafiore era uno di quelli che sbagliava tanti palloni in uscita. Ed era un po' il mio dubbio nell'andare a spendere così tanti soldi di cartello su Calafiore. Un conto era pagarlo 25-30 milioni, un conto 45-50. Perché comunque c'erano ancora dei margini di miglioramento e comunque dei gap, un po' di limiti per forza di cose da cercare di mettere a posto. Dal punto di vista difensivo a Cabal, secondo me è un buon giocatore. Dal punto di vista dell'impostazione non lo so. E infatti vi dico, per me renderà meglio come terzino piuttosto che come centrale. Però sono curioso di vedere quanto mi sono sbagliato io o quanto avete ragione voi. Quindi credo che sia giusto fare un passaggio su Cabal. Prima di tutto però, anzi, prima di tutto, in conclusione però, credo che sia l'argomento più importante Douglas Lewis. Douglas Lewis credo che sia l'argomento più importante. Bisogna sempre partire con i piedi di piombo. Stiamo parlando di una micavole estiva, calcio d'agosto, contro una squadra che tra l'altro è arrivata terza l'anno scorso in Francia, quindi una squadra che giocherà la Champions, però una squadra non di primissimo pelo, quindi bisogna cercare anche di contenersi. però come tocca il pallone Douglas Lewis era tanti anni che non lo vedevamo fare a Torino per un centrocampista. Ci sono state delle giocate che mi hanno ricordato alcune letture di Pirlo, ma per la tranquillità e la sicurezza con cui faceva determinate cose. Cioè in alcuni passaggi ho visto quelle letture da parte di un giocatore come faceva Pirlo che non ha bisogno di guardare il campo perché sa che cosa succede nel campo. Ecco, secondo me Cobb Mainers e Douglas Lewis saranno i due giocatori più importanti della Juventus di Agomotta, tant'è che c'è la volontà di mettere davanti la difesa uno come Turam che pensavo potesse essere sfruttato anche in percussione con le sue lunghe leve, eccetera, eccetera e invece no. Viene messo lì davanti la difesa a recuperare pallone e a gestire per lasciare la qualità negli ultimi metri, nella tre quarti della Juventus a quei giocatori lì come Douglas Lewis e probabilmente Cobb Mainers una a sinistra e una a destra. Quei due giocatori sono quelli che secondo me dovranno dare il via a tutte le azioni offensive della Juve abbassandosi a rotazione una volta a uno, una volta all'altro a dare una mano a Turam o a Locatelli e quello che sarà il giocatore che giocherà davanti alla difesa e cercando di andare a rifinire per Dusan Blauvic o ad aprire il gioco sugli esterni. È ancora presto, prestissimo ma le sensazioni sono super positive per Douglas Lewis un giocatore che tra l'altro ha anche il vizio del gol l'anno scorso in Premier League è andato in doppia cifra Cobb Mainers stesso ha fatto la stessa cosa in Serie A quindi anche da quel punto di vista la Juventus potrebbe cercare di massimizzare i gol per aiutare Dusan Blauvic anche a scalare la gerarchia dei capocannonieri nonostante il gol sbagliato molto facile di testa e invece il calcio di rigore questa volta segnato quei due trequartisti lì perché ormai se siamo stati tutte state a parlare di Juve 4-2-3-1 vi dico la verità secondo me oggi è molto più giusto dire 4-1-4-1 perché credo che quella lì sia la volontà della Juventus vedremo come si risolverà la questione sugli esuberi sugli esterni perché secondo me sugli esterni dobbiamo assolutamente inserire qualità Tuibò con Mainers e tanti altri giocatori che dovranno arrivare siamo un po' in ritardo Giuntoli ti prego muoviti dimmi che non ti sei incartato dimmi che è tutto sotto controllo